È stato arrestato Mattia Messina Denaro, un evento importante per l'Italia, per la giustizia italiana, per la storia del nostro paese. Sì, sì, è una cosa, un arresto molto rilevante, credo che la battaglia contro le mafie va avanti, è chiaro che poi anche da quel versante c'è bisogno di politiche sociali e anche culturali che isolino le mafie nel nostro paese, per questo io penso che ogni volta che i ragazzi, le scuole scendono in campo su questo, fanno un grande lavoro. Quindi un grande grazie alle forze dell'ordine, a chi ha lavorato per questo arresto e poi tutta la società deve essere in campo.